L'insegna della musica gospel e della solidarietà verrà il 20 maggio all'auditorium del Ligotto di Torino con il Sunshine Gospel Mascore. 250 voci dirette da Alex Negro in brani inediti con gli artisti statulitensi Ashley Howard, Larry Wilson, Robin Bradley e The Suspense. Attraverso la vendita di biglietti e le offerte raccolte nella serata, l'evento, giunto alla quarta edizione, ha l'obiettivo di raccogliere foglie a favore della confraternita torinese La Misericordia per l'acquisto di un'ambulanza di rianimazione. pediatrica e di un'automedica per il soccorso urgente.